Sono 43.084 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in tutta Italia, di cui 3.737 in Sicilia, in base al bollettino rilasciato dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda il dato della provincia di Caltanissetta, il numero dei guariti raggiunge quasi il doppio dei nuovi positivi, 322 contro 165. Dei pazienti risultati positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare, 42 sono di Gela, 38 di Caltanissetta, 18 di Niscemi, 18 di Riesi, 12 di Mazzarino, 8 di Sommatino, 6 di San Cataldo, 5 di Butera, 5 di Mussomeli, 4 di Delia, 3 di Campofranco, 2 di Resuttano, 1 di Marianopoli, 1 di Serra di Falco, 1 di Sutera e 1 di Vallelunga. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di San Cataldo, è sempre un paziente di San Cataldo e ricoverato nel reparto di anestesia e rianimazione. Un paziente di Sutera è invece stato dimesso dalla degenza ordinaria. Tre i pazienti positivi al Covid deceduti nelle ultime 24 ore, uno di Sommatino, uno di Butera e uno di Gela. Riguarda i 322 guariti, 93 sono di Gela, 66 di Caltanissetta, 27 di San Cataldo, 20 di Niscemi, 18 di Riesi, 15 di Sommatino, 12 di Mazzarino, 11 di Santa Caterina, 11 di Serra di Falco, 10 di Milena, 9 di Butera, 7 di Vallelunga, 5 di Campofranco, 5 di Marianopoli, 4 di Delia, 3 di Villalba, 2 di Mussomeli, 2 di Resuttano, 1 di Acquaviva e 1 di Sutera.